Squadra che vince non si cambia. Lo sanno bene Fabio Fazio e Luciano Littizzetto, nuovamente confermati da Leone per la conduzione di questa 64esima edizione del Festival di San Remo, che si spera possa avere il medesimo successo dell'edizione passata. L'anno scorso avevamo visto la comica piemontese sfoggiare abiti dai colori e fatture disparate, in un mix di arte contemporanea e retro, strass, paillette, seta e velluto, degni di una vera principessa. E come dimenticare l'abito a forma di farfalla in cui Luciana evocava lo scandaloso tatuaggio di Belen Rodriguez? Quest'anno, per non essere da meno, Lucianina indosserà abiti firmati Gucci, la casa di moda italiana nata a Firenze nel 1921, che vanta tra le sue testimonian nome come Charlotte Casiraghi e black libeli. Per il momento nessuna rivelazione sullo stile preferito e sulla collezione, solo l'abito indossato il giorno della conferenza stampa, firmato da Frida Giannini. Abito fucsia con cardigan a cuori, abbinato e stretto in vita da un cinturino in tono. Anche la borsa al braccio di Luciana era inequivocabilmente Gucci. Occhi puntati dunque sulle vesti della comica piemontese, che senz'altro sapranno evidenziare al meglio la sua essenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.